un'altra volta sono stato cacciato dal gruppo perché la massa di ignoranti che alla fin final sono sempre quei tre che alimentano il mio disprezzo verso di me il loro disprezzo verso di me e il disprezzo io lo faccio vedere volando perché oggi ho sentito un video di qualcuno di una ragazza che diceva era il mio sogno volare e siamo lì era il mio sogno in terza media finita la terza media ho chiesto a mia madre se mi poteva iscrivere alla scuola di volo e purtroppo cose monetare non è stato possibile e io mi sto riprendendo la rivincita quindi a quei coglioni che non mi vogliono nei gruppi andatevene a fa un culo perché qua purtroppo vale il dito e se siete solo che delle merda a volare delle merda a giudicare cazzi vostri ragazzi cazzi vostri perché chi si è fatto sentire si è fatto sentire chi non si è fatto sentire va bene ci farà sentire o sennò mi farò sentire io semplicemente questo ciao fa un culo ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti